Daniele Tonni, Wilm Genova, per fare il punto sulla situazione ILVA dopo l'approvazione del decreto del governo, qualche garanzia in più da parte vostra perché anche il governo si è al tavolo di confronto con i sindacati e l'azienda per cercare di trovare una soluzione al problema dei lavoratori ILVA. Esatto, tanto noi ci riteniamo molto soddisfatti del fatto che tramite questo decreto siamo riusciti a portare l'integrazione dei lavoratori al 70%, cosa che non era scontata, non era assolutamente scontata perché da gennaio, come sappiamo tutti, l'integrazione passava al 60% all'integrazione ai lavoratori in cassa integrazione. Con questo decreto l'integrazione riesce a passare al 70%, abbiamo l'accesso agli ex LPU, cioè ai lavori socialmente utili, che ci permetterà e permetterà a una parte dei lavoratori di ottenere i lavori socialmente utili e di conseguenza avere un'ulteriore integrazione che li porterà all'80%. Per quanto riguarda l'accordo di programma, voi siete disposti a rivedere quelli che sono appunto gli accordi presi qualche anno fa, come è stato detto, oppure da parte vostra come da parte della FIOM c'è un muro e volete rispettare quelli che sono i paletti stabiliti? Allora, un chiarimento sull'accordo di programma, per quello che riguarda l'accordo di programma per noi è tuttora in essere, sono state dette tante cose, per noi l'accordo di programma è assolutamente valido e rimane quello. Noi saremo disposti a parlare di modifica di accordo di programma nel momento in cui l'accordo di programma dovesse essere migliorativo per i lavoratori, non siamo disposti a discutere di intaccamento di numeri di posti di lavoro o di smobilitazioni di azienda o di vendita di pezzi di azienda senza nessun tipo di motivo, per noi l'accordo di programma se avrà intoccato, avrà intaccato in maniera migliorativa per i lavoratori e per dargli una prospettiva futura. L'accordo di programma eventualmente si rivede con una nuova proprietà oppure con l'attuale proprietà di ILVA? Per quello che ci riguarda, siccome ora è uscito un bando di vendita dell'ILVA, chiaramente noi le discussioni della modifica eventuale, perché fra l'altro non è detto che eventuali compratori o eventuali nuovi proprietari, come si sa è difficile che praticamente lo stabilimento ILVA venga venduto immediatamente, solitamente funziona, che viene dato in locazione d'affitto e poi in un secondo momento, anche perché parliamo di un gruppo importante con un sacco di cose da vedere, verrà venduto. Ma nel momento in cui noi andremo a parlare di accordo di programma o di eventuali modifiche di accordo di programma, lo faremo solo ed esclusivamente con la nuova proprietà. A ora non ci sono le caratteristiche, anche perché per ora l'ILVA è proprietà dello Stato. C'è stata un po' di contrapposizione tra sindacati in queste settimane, come la valutate? Ma diciamo che in parte abbiamo anche naturalmente capito le preoccupazioni della FIOM, nel senso che giustamente si sono sentiti, hanno avuto paura del fatto che l'accordo di programma non è più stato nominato e anche nelle sede locali da parte di Comune ha ragione, diciamo che c'è stata un po' di frenata. Però abbiamo avuto garanzie dal Governo, come abbiamo avuto garanzie da tutte le istituzioni Ligure che l'accordo di programma è in vigore. Poi i problemi per cui noi e FIM non abbiamo partecipato allo sciopero è solamente perché a noi il decreto legge, perché il decreto legge è legge, per quello che ci premeva al momento era l'integrazione ai lavoratori. L'integrazione ai lavoratori è stata data, continueranno ad avere le stesse integrazioni che hanno avuto fino allo scorso anno, poi separiamo la vendita a ILVA che sarà un discorso da fare ben più ampio e al Governo, ma non sicuramente per quello di attaccarci all'integrazione che è stata data tra l'altro. Ringraziamo Daniele Toni per essere stato con noi su Extra Liguria a Pausa Caffè.